Ciao a tutti ragazzi da 100% Ciocioro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone sprega tanto contro il Chievo Verona e si ritrova di nuovo nella parte destra della classifica venendo sorpassato dal Brescia che si trova in un ottimo periodo di forma. Dicevo, un Frosinone che sprega tanto, soprattutto nel secondo tempo, nel primo tempo una partita noiosa, a larghi tratti come tante altre nessuna delle due fa qualcosa in più per cercare il vantaggio quindi il primo tempo passa molto in sordina. Nel secondo arrivano le occasioni più ghiotte per entrambe Frosinone sciupa malamente con Novakovic che si era trovato involato verso la porta prepara il colpo col sinistro, svirgola completamente il pallone, va lateralmente non inquadra per niente lo specchio. Il Chievo poi ha un'occasione, non ricordo con chi, adesso, poco dopo noi dopo a qualche minuto possiamo ancora rimediare a quanto fatto prima Rodien riesce a controllare un pallone al centro dell'area di rigore e la manda sopra la porta solo contro il portiere e qua già due errori veramente pesanti non so veramente come spiegare perché questa squadra quando crea non riesce a segnare e poi fa delle partite magari in cui non crea niente altre in cui crea e un gol, due gol riesce a farli questo forse anche in tempi migliori però adesso veramente si fa tanta tanta fatica il Chievo ha un'altra occasione di testa la palla sfiora di poco il palo noi dal canto nostro siamo veramente imprecisi perché poi ancora davanti al portiere Iemelo stavolta ha tutto il tempo di fare ciò che vuole e non calcia non calcia e viene anticipato dal difensore e poi ancora Rodien un po' più defilato quindi questa magari poteva anche diciamo passare in secondo piano però c'è da dire che Rodien ha avuto un'altra occasione la sparata alta dalla posizione laterale Frosinone che quindi diciamo tre grandi occasioni le ha avute ma come al solito dobbiamo sempre mangiarci le mani e questo periodo o no sembrava essere passato dopo Cosenza invece ecco che arrivava la sconfitta col Brescia il pareggio di ieri col Chievo la prossima è con il Lecce non è sicuramente facile anche perché poi giochiamo in casa quindi c'è anche quell'aspetto da tenere in considerazione vedremo un po' cosa cosa saremo in grado di mettere in campo e sperando che veramente si riesca a lasciare via lasciarci alle spalle questo periodo o no piccola nota Rastelli che io speravo potesse arrivare il prossimo anno a Frosinone va alla spalla sostituisce Marino ex Frosinone quindi niente da fare per Rastelli per questo video è tutto vi invito a schiacciare al canale mettere un mi piace vi lascio in descrizione la pagina facebook la terra dei luni e giallazzurri e noi ci vediamo alla prossima dopo Frosinone e Lecce ciao